per tutti ragazzi che con un nuovo video oggi vi farò vedere la migliore applicazione per scaricare anime gratis comunque il link lo trovate in descrizione e si chiama anime ab quindi andiamo subito ad aprirlo e basta che vado a cliccare su videos e diamo un attimo se mi carica vabbè andiamo a cliccare su una di queste anime tanto poi sopra vi dirà il nome adesso andiamo a cliccare un secondo che si sta caricando e poi qui sotto c'è scritto episodi completi potete anche fare su uno di questi episodi e ve lo farà guardare andate a cliccare su play aspettiamo un altro secondo perché si carica e adesso di nuovo play si è buggato ok ragazzi come potete vedere l'applicazione funziona benissimo un attimo mettiamo in pausa ok quindi ragazzi io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale noi ci vediamo con tanti altri video bella